Prensys, metta, non fare niente. Muro a 345, muro a 345. Fermo così, fermo così, fermo così. Ok, sto a posto, ma il motore. Questo però sono colpi di bazzura di dietro. E' un cazzo, un altro carro, è un altro carro, ma che cazzo? Abbiamo un carro a sinistra. Prensys, tu a sinistra. Abbiamo un carro a 271. Fermo, 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 fermo. Fermo, 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 fermo. Sto a fermo, dove c'è? Dai, vai, 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 andale, andale. Ok, giro a destra, giro a destra. Eh, girate a destra, girate a destra. Destra, 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 destra! Quanti ce ne sta? Un altro! Non è un carro, è un bazzuca. Giro a destra, giro a destra, che arrivi in bazzuca, se no. Ok, fermo così, scendi un attimo per provare a riparare l'espago. Scendiamo entrambi? Provate, dai, provate. Mettisi po' dietro, non so. Ho capito uno dei due, porco jack. Ok, ce l'abbiamo chiamato, ma l'altro dove cazzo è uscita? Sì, è proprio da nulla, stiamo conquistandola. Sì, sì, la salvo. No, no. E lascia' uscita. Era di...